Ci sono gli investimenti miliardari nelle energie fossili, c'è il non voler capire che è ora di cambiare assolutamente paradigma di sviluppo, che non esiste un pianeta B, che non esiste un futuro al di là della sostenibilità. E allora quello che stanno difendendo è appunto la loro paura, la paura di una moltitudine di persone colorate, pescose, felici, a differenza di Gilbert, oggi l'osco, richiudono la polizia! Siamo centinaia e migliaia oggi, oggi è un messaggio chiaro che arriva, oggi è vinto la democrazia, anche se si è visto come la paura del potere impera in queste situazioni, come è molto più facile mantenere un'immagine di distanza dalle popolazioni, proprio quelle che si dovrebbero rappresentare!